Settimo anno per il premio Rosa d'Argento a Catanzaro, istituito dalla Camera di Commercio in collaborazione con la sezione catanzarese della FIDAPA. Un riconoscimento che vuole valorizzare le eccellenze femminili e non che si sono distinte nell'ambito culturale, di impresa e universitario. Il premio è intitolato alla memoria di Emilia Zinzi, storica catanzarese che ha avuto un forte legame con la sua città natale. Una cittadina catanzarese che ha difeso questa città a spada tratta e si è messa sempre contro chiunque l'abbia voluta maltrattare questa città, che è sempre stato il suo riferimento, il suo pallino difensivo, ma soprattutto una studiosa, i cui scritti chiaramente rimangono nella gloria della letteratura di questa regione, di questa città. Hanno ricevuto il premio Daniela Carrozza per la sezione Cultura, per i risultati ottenuti con azioni maturate nella sfera dell'intrapresa privata e della rappresentanza pubblica, Giovanni Battista Mezzatesta per la sezione Impresa, per il significativo apporto alla crescita dell'azienda di famiglia Profiltec SRL, e Michele Mercurio per la sezione Neolaureato, per il brillante risultato ottenuto nel corso di studi e la determinazione dimostrata. È un premio ai buoni valori, ai valori del merito nelle proprie professioni, ma sicuramente anche al valore umano delle persone che premiamo. E questo sicuramente vale sia per la FIDAPA sia per la Camera di Commercio. Da Catanzaro per la Cineuse 24